Cos'è? Aspettavi qualcun altro per casa? E tu che vuoi? Ricordarti che le donne sposate vanno lasciate in pace. Nina sa bene quello che vuole. Non c'è bisogno dell'avvocato. Beh, a quanto pare ha già scelto. Tu davvero credevi che una bandera cambiasse vita per un coglione come te? Tu non sei niente di lei. Non l'hai mai capita. Segui il mio consiglio, morabito. Prendi quell'aereo e vattene il più lontano possibile da Levante finché sei ancora in tempo. Ti stai minacciando? Ascolta tu, non provare a sfidarmi un'altra volta, è chiaro? E se ti vedo ancora vicino a Nina, io ti giuro che ti ammazzo. Attravermi un'altra volta, è chiaro? Grazie a tutti